Grazie. Andrea Orlando stamane ha fatto una bellissima relazione, molto diffusa, però sulla magistratura onoraria ha detto seguirà la relazione di Melis. Adesso non vi aspettate una relazione, io parlo dieci minuti, quindi sarà una cosa molto schematica, forse anche un po' provocatoria, che riassume quelle che sono le conclusioni a cui è arrivata la nostra discussione interna, ma naturalmente adesso la sperimenteremo in questa sede e nelle prossime occasioni. Questo della magistratura onoraria è un grande tema, però non forse meritava di essere messo ancora di più al centro della nostra attenzione, perché è un tema che, come sapete, dal punto di vista numerico della platea delle persone interessate è molto rilevante, ma soprattutto è rilevante dal punto di vista della, come si potrebbe dire, se fossimo in un'assemblea di metallomeccanici, direi della produzione. Se la giustizia fosse una fabbrica, una gran parte della produzione sarebbe da ascrivere ai magistrati onorari. E allora il tema va affrontato, secondo me, con una certa determinazione. Io mi pongo un quesito, ma questa figura del giudice onorario, calcando l'accento sull'aggettivo onorario, è ancora attuale, ha ancora ragione di esistere nel nostro ordinamento o dobbiamo pensare a una riforma radicale di questa figura? Perché vedete, molte cose sono cambiate in questi ultimi decenni, e la figura viene da molto lontano, come sappiamo, viene addirittura, come dire, dall'Ottocento, poi negli anni Novanta viene fortemente potenziata, e finisce per avere, come spesso accade alle istituzioni in Italia, questa è una cosa tipica della storia delle istituzioni, si crea un organismo con funzioni di supplenza, talvolta con funzioni provvisorie, comunque con un compito circoscritto. Di lì a poco questa istituzione viene caricata di sempre nuove responsabilità e funzioni e finisce per assumere nell'ordinamento un ruolo e un significato diverso da quello che aveva in origine, senza che però muti la sua fisiologia. È come se su un corpo bambino noi accollassimo le responsabilità e le azioni di una persona matura. La magistratura onoraria ha un ordinamento, ha una struttura assolutamente precaria, e non a caso l'Europa ci mette in mora sotto questo profilo. La prima ragione per cui dobbiamo ridiscutere questa figura, questo aggettivo onorario, è perché dall'Europa ci viene un'indicazione molto precisa, che riassumo così in maniera semplice. L'imparzialità dei giudici si fonda sulla certezza della permanenza nelle funzioni e sulla loro inamovibilità. Questo è un dato sul quale non possiamo più giocare, anche perché ormai, come è noto, non solo in questo campo, ma in molti altri, l'Europa è diventata assolutamente decisiva nella organizzazione della nostra vita sociale e civile. Ciampi diceva, a proposito della finanza e dell'euro, l'Europa ci obbliga a essere virtuosi. Chissà che anche nel campo della giustizia l'Europa non ci obblighi ad essere virtuosi. E' cambiato moltissimo da quando questa figura è stata introdotta nel nostro ordinamento. E noi abbiamo dovuto purtroppo assistere a un periodo molto lungo di proroghe, di rinvii, secondo un meccanismo che anche questo è tipico delle istituzioni italiane. Si evita la decisione, perché la decisione spesso è fuoriera di divisioni o comunque di tensioni. E nel frattempo si ha un processo, in qualche modo, di stabilizzazione di fatto, di figure che non sono strutturate come dovrebbero essere. Di cui appunto il tema. Allora, l'Europa ci chiede di intervenire. C'è una palese contraddizione tra lo Stato e la magistratura onoraria in Italia, i principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi e raccomandazioni europee. C'è un evidente danno nel mantenere in stato di precarietà una categoria di quasi 10.000 persone, diffuse su tutto il territorio nazionale, responsabile di un vasto numero di competenze, titolare di funzioni che coprono il 50% del processo civile e percentuali elevati di quello penale. E' venuto il momento di proporre una vera e propria riforma radicale della magistratura onoraria. E come questa riforma? Il Partito Democratico pensa che bisogna aggredire quell'aggettivo onorario, che lì sta uno simolo, ci sta una contraddizione. Noi pensiamo che bisogna far fuoriuscire questa magistratura dal precariato con attribuzione di uno Stato giuridico, e quindi pensiamo alla fine del giudice onorario, che dobbiamo dotare questa figura di diritti previdenziali di assistenza sanitaria come chiedono le associazioni dei magistrati onorari, vi compreso il riconoscimento di ferie maternità, però tutto ciò è in cambio di precise garanzie, di una trasformazione radicale della figura stessa. E queste garanzie quali sono? Non possono che essere quelle, anche qui mi riferisco alla regola europea, beh, devono essere l'incompatibilità con altre attività, sia nel distretto che altrove, in particolare l'esercizio dell'avvocatura in assoluto, e non solo nel distretto. Un concorso di entrata serio, non solo per titoli, ma con prove selettive, seppur evidentemente diverso, forse meno complesso, o orientato diversamente da quello che si affronta per accedere alla magistratura ordinaria oggi, e poi valutazioni di merito sulla base dell'esame della giurisprudenza prodotta, delle prestazioni rese, in una sequenza di riconferme a cadenza che potrebbero essere pensate a cadenza quadriennale, o che so io, quinquennale, questo è un dettaglio sul quale si potrà discutere. Si intende che bisognerebbe però circoscrivere tassativamente il perimetro di attività di questi giudici, che non chiamerei più giudici onorari, poi vedremo come chiamarli, evitando, come oggi avviene, che l'attività venga fatta debordare da norme che ricaricano di continua responsabilità, attribuendo loro supplenze tendente a perpetuarsi verso attività che dovrebbero invece essere riservate ai magistrati ordinari. Certo, questo significa voltare una pagina, anche rispetto alle proposte di legge, alcune delle quali anche molto lodevoli e interessanti, che in questo momento sono in discussione davanti al Senato. Significa voltare una pagina, significa configurare in Italia un sistema nuovo, inedito, nel quale scomparirebbe la qualifica di onorario, e esisterebbero due livelli di magistratura, distinti per competenza e per grado di responsabilità. L'accesso al primo di questi due livelli sarebbe garantito dal concorso, l'accesso al secondo sarebbe ugualmente garantito da un concorso più complesso. Si può immaginare un passaggio, riservando una corsia, dopo un certo numero di anni, ai magistrati del primo livello che volessero concorrere al secondo livello. Una corsia però non automatica, anche qui, che eventualmente potrebbe valutare, come un titolo specifico, la permanenza nella magistratura di primo livello. Possiamo trovare dentro questa nuova struttura, si può trovare forse una risposta a quella che è stata chiamata la proletarizzazione degli avvocati, cioè una parte di questo precariato delle professioni legali, può trovare forse dentro questa soluzione un sbocco, ma non possiamo certo accettare l'appartenenza all'avvocatura come condizio sine qua non, perché in realtà noi dovremmo mirare, io credo, soprattutto a fare accedere a questa fascia di magistratura junior, come la vogliamo chiamare, dovremmo garantire soprattutto l'accesso ai neolaureati di giurisprudenza, cioè a coloro che sono freschi di studi, che hanno una forte volontà di affermarsi in un'età che anche anagraficamente è quella che garantisce meglio le risorse fisiche anche per svolgere questo lavoro. Un giudice che c'è fresco di studi, di attivo, animato da ambizioni, ambizioni anche di eventuali successivi passaggi, che devono essere però sempre immaginati per concorso e non certamente come nella tradizione dell'amministrazione italiana secondo Opeleggis che non possono essere accettate. Sotto questo profilo io credo che noi configureremmo una sorta di carriera a due stadi, un po' come fu nella vecchia tradizione dei pretori. avremmo una magistratura di accesso cui affidare funzioni e contenziosi circoscritti e una magistratura ordinaria organizzata nei termini attuali. La proposta di stabilizzazione sarebbe temperata dalle riconferme periodiche avrebbe un suo corollario in opportune politiche di formazione permanente che si potrebbero indirizzare a questa nuova categoria di giudici. Naturalmente questa soluzione può essere praticabile a patto che il potere politico garantisca che viene mantenuto come dire il timone che non si risolve questa soluzione in una sorta di sanatoria generale. In qualche misura qui la politica del governo che sta tagliando e taglierà inevitabilmente una parte dei giudici di pace riducendo il numero dei magistrati onorari in qualche misura ci crea un'occasione favorevole perché in una riduzione della platea attuale si possono trovare forse anche le forme per razionalizzare meglio all'insegna di questa serietà di fondo dei nostri propositi la riforma. Noi pensiamo che questa riforma sia praticabile che presenterebbe tre vantaggi darebbe certezza a un quadro istituzionale che abbiamo per troppo tempo tollerato confuso precario attraversato da contaminazioni di interessi perché naturalmente tutti sappiamo la dedizione e l'onestà dei giudici onorari ma è evidente che una situazione come quella attuale è una situazione come dire a rischio di contaminazione di interessi offrirebbe sbocco questa soluzione a energie giovani che non potrebbero che giovare all'interno del sistema della giustizia ma soprattutto e questo è il motivo fondamentale assicurerebbe ai cittadini su un complesso di materie minori non necessariamente reati bagatellari ma materie minori un servizio che potrebbe essere rapido efficace e più incisivo dell'attuale la nostra proposta è di uscire dalla lungo stallo in cui è rimasta la magistratura onoraria e di uscirne in avanti producendo una trasformazione del sistema della magistratura italiana grazie grazie